Si terrà il prossimo 22 maggio la 18esima edizione della Festa dello Sport presso lo Stadio Guariglia di Agropoli, in località Marrota. Promosso dal progetto MIUR, le nostre origini, i giovani, le emozioni, costruiamo il futuro. Unici protagonisti, i ragazzi che per la 18esima edizione non saranno solo attori, atleti, ballerini e musicisti, ma anche esperti project manager della gestione e organizzazione della manifestazione. Per l'occasione ci sarà anche la presenza di stand allestiti da associazioni sportive locali e manifestazioni culturali, espressioni della tradizione tipica locale, già presenti nelle passate edizioni. Tema di questa giornata e tema conduttore dell'intera manifestazione è la lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeno sempre più in crescita e diffuso soprattutto negli ambiti scolastici e sportivi. Questa tematica verrà anche approfondita con un apposito convegno e illustrata in un'intera giornata con uno spettacolo di danza. Come d'altronde affermato dagli alunni, il bullismo non può essere accettato, siamo tutti diversamente uguali, pertanto la gioventù deve trovare nello sport e non solo in esso un'armonia, un punto di riferimento, un ambito dove maturare e crescere non solo dal punto di vista fisico ma civile e culturale. Le associazioni sportive locali e i gruppi folcloristici che sono interessati a partecipare possono rivolgersi ai seguenti contatti. Professoressa Solimeo, telefono 329-5464-493, mail liliana.solimeo-libero.it oppure professoressa Santarsiero, telefono 338-8438-397, mail mariarosaria.santarsiero-gmail.com autore 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 Grazie a tutti.